E sono 6 milioni di euro i fondi assegnati alla città di Andrea dalla Regione Puglia per la messa in sicurezza della discarica di San Nicola La Guardia. Tutti i dettagli nel servizio di Marilena Pastore. Sono stati stanziati dalla Regione Puglia 73 milioni di euro per la messa in sicurezza di aree inquinate e degradate. Due le determine da parte del settore ambiente Regione Puglia per la tutela del territorio, messa in sicurezza operativa permanente e bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discarico abusive e dismesse. Un contributo che tocca più di 10 comuni, tra cui Andrea, per la discarica comunale in località San Nicola La Guardia. Ad essa è destinata la somma di 5 milioni e 800 mila euro. È riportato nella determina dirigenziale 279 del 15 novembre scorso, pubblicata dal settore ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia. Il Comune di Andria, in seguito all'avviso di pubblica selezione riguardante la misura 6.2 a 6.4 del POR Puglia e FESR 2014-2020, aveva presentato progetto e istanza di finanziamento per le misure di prevenzione e sicurezza in riferimento alla discarica comunale San Nicola La Guardia. La Commissione Tecnica di Valutazione, dopo le opportune verifiche, ha ritenuto valido e meritorio il progetto, ammettendolo così al finanziamento. Grande soddisfazione per lo straordinario risultato raggiunto è stato espresso dall'assessore Luigi del Giudice alle politiche per l'ambiente e la qualità della vita per il Comune di Andria, perché ci consentirà, detto del Giudice, di procedere a interventi significativi per la bonifica e la messa in sicurezza della discarica comunale, a tutela della qualità ambientale e della salute dei cittadini. La salubrità del territorio e la sostenibilità dei depositi controllati dei rifiuti solidi urbani rappresentano una delle priorità della nostra azione politica. Continueremo a migliorare i piani di sorveglianza e di controllo sui parametri chimico-fisici e idrogeologici per garantire tutta la comunità andriese. Anche ai cittadini, conclude del Giudice, chiediamo però di porre maggiore attenzione nella raccolta differenziata dei rifiuti e indirizzare sempre più i comportamenti a maggiore senso civico, per esempio non abbandonando ancora i rifiuti per le strade.